Sesta corsa premio Noè degli Dei è la seconda tris del palinsesto ippico nazionale di oggi è un miglio per i 4 anni a reclamare, sono 13 al via la prima fila per Sinfonia d'Amore, Shining Wise, Savannah Jet, Saul Musk, Superstar Hans, Sparviere Abuzia e Saetta Jet seconda fila per Savara S, Selena Ritz, Spartacru 3B, Simon Photo SM, Stelvio Live e Serenoia buono l'allineamento quando mancano pochi metri allo stacco della macchina per linee interne e veloce, Savannah Jet che va a condurre nei confronti di Shining Wise quindi Superstar Hans che cerca di sottrarre la posizione a Sparviere Abuzia che rimane a largo l'errore però per Superstar Hans e allora Sparviere Abuzia può sistemarsi in terza posizione con all'esterno Saetta Jet conclusione della prima curva con Savannah Jet Leader spostato dalla sua scia Shining Wise va a chiedere strada all'avversario e la ottiene in 450 metri Shining Wise e la nuova battistrada il mezzo giro iniziale però è in meno di 37 quindi parziale molto sollecito per Shining Wise per togliere il comando a Savannah Jet dal gruppo cerca di risalire Spartacru 3B in aggiramento su Saetta Jet che vuole prenderne la scia in corda c'è Sparviere Abuzia a precedere Stelvio Live poi ancora all'esterno Serenoia quindi all'argo Savara S con il gruppo che si va compattando quando mancano 700 metri alla conclusione Savannah Jet che mantiene la destra libera in controllo su Spartacru 3B per poter tornare all'occorrenza su Shining Wise che nel frattempo completa il primo giro da 1.16.5 Savannah Jet ora anticipa con maggior decisione Spartacru 3B e va al sacchi di Shining Wise che però reagisce accelerando poi Sparviere Abuzia che è in pariglia con Saetta Jet, Stelvio Live che è in fuori Serenoia quindi tutti gli altri ma Shining Wise replica bene a Savannah Jet che rimane in seconda posizione davanti a Sparviere Abuzia quando siamo ormai prossimi all'ingresso in retta d'arrivo e Shining Wise si allunga la corda in seguito a Savannah Jet, Sparviere Abuzia, Stelvio Live che cerca spazio dalla corda poi ancora Saetta Jet con Savannah Jet che prova ad andare su Shining Wise che si difende poi Sparviere Abuzia, Stelvio Live e Saetta Jet è in vantaggio a Shining Wise su Savannah Jet e sembra controllare la situazione Shining Wise che vince su Savannah Jet e poi Stelvio Live che anticipa le mosse di Saetta Jet per il terzo posto 2.3.12 l'arrivo ufficioso della sesta corsa di Capannelle 2.08 sul mio cronometro 1.15.5 per Shining Wise e Armitz Midra che ce l'aveva annunciata in ordine e senza ferri ha tolto il comando a Savannah Jet dopo la prima curva e poi ha tenuto a bada l'avversaria con una certa disinvoltura fino al traguardo la vittoria di Shining Wise numero 2 su Savannah Jet numero 3 e poi Stelvio Live numero 12 davanti a Saetta Jet e Sparviere Abuzia e dunque 2.3.12 all'arrivo ufficioso della sesta di Capannelle